è un'architettura diciamo diversa dalle altre proprio per il piacere visivo in un certo senso il committente era un regista un grande regista gian vittorio baldi è stato in italia il primo a fare del cinema verità mi ha chiesto di fare questa casa che è stata poi costruita da mio padre è anche un'iniziazione al lavoro dell'architetto guidato da una persona come mio padre che ovviamente voleva assecondare il mio desiderio di fare un'architettura una casa calda accogliente una casa che corrispondesse al desiderio di muoversi e anche di stabilire un rapporto con il paesaggio con l'esterno la casa grande prana si è fatta promotrice di questo nuovo utilizzo che è stato per me un piacere cercare di ospitare degnamente dentro la casa credo veramente che così com'è questa showroom sia appassionante invitandoti in diversi ambienti a scegliere tra cose qualche modo vicine tra loro quindi è un modo per accompagnare gentilmente direi la scelta che l'architetto dovrà fare del materiale che preferisce grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti